Un luogo d'incontro dove trovano riparo decine di migliaia di opere, oggetti di rara bellezza, messaggeri di tradizioni e culture millenarie. I tre depositi temporanei del Museo Etnologico dei Musei Vaticani, che affonda le proprie origini nel 1925, quando Pio XI organizzò l'Esposizione Vaticana, si caratterizzano per avere un attento trattamento dell'aria e per essere luoghi dove si applica un approccio dinamico e interdisciplinare alla conservazione. Con noi Vittoria Cimino, che guida l'Ufficio del Conservatore, e Stefania Pandosi, coordinatrice del Laboratorio di Restauro Polimaterico dei Musei Vaticani. Noi siamo in un ambiente dove c'è un sistema di climatizzazione, controllo dell'umidità e della temperatura. Sono fattori importanti che assicurano quindi la conservazione a questi oggetti che sono polimaterici, polimaterici organici, quindi il coefficiente di complicazione e di fragilità è altissimo. Sono tutti oggetti che sono stati trattati, come vedete, messi in busto di conservazione e poi vengono qui conservati in attesa di poter avere una nuova esposizione o di essere trasferiti addirittura in altri depositi, perché questo museo è in continua evoluzione, quindi molti cambiamenti sono in corso e altri ce ne saranno. Noi siamo una squadra composta da sette restauratrici specializzate in diverse classi di materiali che appunto si prendono cura di questo immenso patrimonio dell'umanità. Questo deposito è un deposito dove abbiamo utilizzato dei materiali che sono frutto dello studio e della ricerca del gruppo di restauratrici, insieme naturalmente alla direzione, al nostro laboratorio per la diagnostica e seguite dall'ufficio del conservatore. È un deposito nel quale le operazioni di conservazione sono state quelle di primo intervento, cioè la disinfestazione anossica, il controllo strutturale, alcuni interventi di conservazione, ma poi la disposizione entro dei supporti, come si possono vedere, conservativi. La direzione del museo e direi con tutti i musei vaticani sono veramente in questo momento interessati a queste collezioni così importanti e quindi il sogno e l'impegno sono nella realizzazione di depositi quanto più possibile a vista, cioè aree che rappresentino tutti e cinque i continenti, nelle quali si possano ricavare delle vere e proprie vetrine alla pari della parte espositiva e gli studiosi possano accedervi con delle visite particolari e possano riconnettere gli oggetti uno all'altro e così avvicinare di più la riconnessione alle culture di provenienza che è il vero punto di riferimento del curatore che ci sta guidando in questa bellissima esperienza. Il deposito temporaneo Qi custodisce con il suo tenore di umidità relativa molto alto le lacche. Le collezioni infatti hanno diversi oggetti di provenienza cinese con interi pezzi di mobilio. Gli oggetti del museo etnologico hanno una straordinaria varietà, dalle testimonianze delle grandi tradizioni spirituali asiatiche a quelle delle cività precolombiane e dell'Islam, dalle produzioni dei popoli africani e quelle degli abitanti dell'Oceania e dell'Australia. E tutti sono trattati e conservati con la stessa dignità, dal più grande al più piccolo. Quando noi abbiamo iniziato appunto molti anni fa abbiamo trattato tutti gli oggetti alla stessa maniera, non conoscendone il valore intrinseco. Ogni anno, ogni giorno direi, gli studiosi che provengono da tutto il mondo ci fanno riconoscere capolavori assoluti che nelle culture di provenienza non hanno musei attrezzati, laboratori, depositi e uffici preposti per la conservazione che quindi riscoprono qui le radici culturali e quindi direi che moltissimi oggetti qui cominciano ad avere quel rilievo che meritano e che possono veramente essere utili per un museo del dialogo e della pace.